Da stasera torna in funzione il dormitorio che resterà aperto sino al prossimo 4 aprile per un periodo più lungo rispetto al passato. È una risposta concreta che, grazie a Caritas e all'impegno di molti volontari, diamo alle fasce più deboli della popolazione. Così l'assessore alle politiche sociali Lucia Tanti, che in una nota spiega che nessun residente ad Arezzo ha ancora necessità del dormitorio e già questo è un primo importante risultato raggiunto. La struttura metterà a disposizione 20 posti per chi è di passaggio nella nostra città ed altri 8 posti nella dimora invernale per chi, seppur non residente, con Arezzo ha ormai un legame consolidato e vuole iniziare un percorso rieducativo e un programma di reinserimento. Inoltre, sottolinea l'assessore, come avevamo già annunciato nelle scorse settimane, è in fase di definizione l'accordo con Caritas, Arezzo Casa e altre realtà istituzionali per l'attività di social housing. Un progetto che prevede l'utilizzo di due appartamenti di edilizia popolare destinati all'accoglienza per tutto l'anno. Il dormitorio di Piazza San Domenico lo scorso inverno è rimasto aperto dal 4 dicembre 2018 al 7 aprile 2019 per un totale dunque di 124 notti, 68 in tutto i volontari che hanno reso possibile questo servizio notturno, ai quali vanno aggiunti anche i 25 che si sono occupati invece della polizia dei locali. Le persone registrate sono state in tutto 50, 42 uomini e 8 donne per quasi 1.900 pernottamenti, mentre 522 sono quelli riferiti alle persone senza pass una modalità di accesso emergenziale per una sola notte.